Se sei stanco delle solite ragazze di città, le solite ragazze italiane, quelle che per dartela le devi corteggiare un bel po', chiama il 3288323773, risponderà Fabio Corti o se è occupato il grande Maurizius, suo assistente personale. In 448 ti procureranno una femmina ungherese, polacca, cieca o ucraina, insomma una ragazza dell'est pronto a farti la fest. Ciao!